Buongiorno a tutti i nostri sponsor, a tutte le hostess, a tutti coloro che lavorano tutti i giorni e che girano al giro, girano al giro, girano al giro Quindi, come state? Tutto bene, pubblico? Questo è il pubblico di Benevento, sentite che calore! Sembrato in 4.000, so che avete già visto la bellissima Ilenia, il bellissimo Leone dell'Arnia Dopo, dopo, adesso iniziamo E' bello Leone, molto, è lì, è lì, era lì Adesso, dopo li chiamiamo qui ospiti, direttamente da Radio 105 sul track di Radio 105 insieme a me, insieme alle nostre centocinquine che vado a presentare Dunque, la nostra Ivana, un applauso alla nostra prontissima Ivana La mia centocinquina sulla mia sinistra Alessia Alessia, di dove sei Ale? Benevento Benevento, quindi gioca in casa E sulla mia destra abbiamo? Arianna Di dove sei? Napoli Napoli Quindi, eh? Tu sei l'unica bionda qua in mezzo a queste tre calciofone Salutiamo la console, la migliore musica che passa solo su Radio 105 DJ Max E poi abbiamo il nostro mitico Beppe che ieri mi ha augurato che la mia vasca di dromassaggio Che fortunatamente mi hanno dato strano una volta solo nella vita il successo Anzi, ringrazio l'Alessia Wright che mi ha concesso questa cosa Mi ha augurato tutta la sera che non funzionasse In realtà ha funzionato benissimo Ha funzionato benissimo, quindi grazie Allora, oggi l'appuntamento con Radio 105 e con tutti i nostri sponsor è molto bello perché giocherete con noi, quindi salirete sul palco insieme a noi per vincere i capellini di 105, i cagli di 105 Questi adesivi, cari ragazzi e ragazze, sono magici Mettendo questo sul retro della vostra auto, o scooter, o monopattino, o roller, qualsiasi cosa Non prendete la multa, perché fa un po' figo A Milano funziona così Vuoi fotografare il marchio? Ce ne sono tantissimi, grazie Quindi io inizia, cioè inizia lei a regalare qualcosa al nostro pubblico, così lo accontentiamo E nel frattempo vi chiedo se qualcuno è capace così di ballare